Nel primo match casalingo del 2023 il Pineto perde per 0 a 2 contro la sua bestia nera l'Alma Juventus Fano in vantaggio nel primo tempo e Granata con Nappello nella ripresa Bonacchi raddoppia per i marchigiani. Calcio d'inizio per i padroni di casa, la partita incomincia con il solito equilibrio, il primo squiro degno di nota è De Biancazzurri, Maio pesca i mili che dà l'illusione del gol. Un giro di lancette dopo e ancora Maio a trovare in un'azione fotocopia la risposta di Bizzini in due tempi a disinnescare. L'Alma Juventus Fano non si scompone e dopo una lunga fase di studio passa al 35esimo Nappello, toglie le cosiddette ragnatere dal 7 trovando un vantaggio pesantissimo. Nella ripresa il match continua con il solito copione, il Pineto ci prova con Maio alto sopra la traversa, l'undici di Mosconi rapace, raddoppia Niang, si invola tu per tu con Mercorelli e confeziona il pesantissimo raddoppio. Il match viene addormentato dai Granata con i padroni di casa che non riescono a trovare il pertugio giusto. Nel finale azione insistita in area di rigore ma sulla conclusione di Allegretti il Fano si salva nel più classico dei corner. Dalla bandierina il neo entrato Nonni in corna ma Bizzini riesce a far suo il pallone. Dunque l'Alma Juventus Fano si conferma bestia nera De Biancazzurri annoverando le uniche due sconfitte del Pineto in campionato. Sì, abbiamo parlato tanto, siamo arrivati che dobbiamo fare i fatti. Abbiamo chiesto il cuore ai ragazzi di cambiare pelle, di tornare quelli che eravamo e hanno risposto bene. Hanno dato tutto, nel vero senso di parlare c'erano ragazzi che veramente hanno rimesso in banchina a fine partita, però era l'atteggiamento che volevamo. Poi nel calcio è sempre l'episodio, siamo riusciti a sbloccarla, era una cosa che non succede da tempo e dopo la partita si è incalanata bene, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato il cuore. È stata una partita fino al concitato finale sotto controllo. Abbiamo giocato bene sulla fase di non possesso e era così. L'atteggiamento nostro deve essere questo e adesso ci aspettano altri 15 battaglie, non abbiamo fatto assolutamente nulla. Bisogna riprendere il percorso nostro, fatto dei principi, sudore, rabbia e testa alta. Questo è un atto dovuto ai tifosi e alla città di Fano. Sicuramente, sapevamo le difficoltà che avremmo incontrato oggi. Il Fano veniva a tre sconfitte consecutive, è una squadra importante, che ha giocatori importanti e ne aspettavo una reazione da parte di una squadra forte come il Fano. Noi venivamo la terza partita della settimana, ci è mancato un po' di brillantezza sulle gambe, magari sulle seconde palle, era già una partita di contatto fisico. Il Fano, alla prima occasione, cercava subito la palla lunga per Broso, per Urbinati, per Aspizzata, per guadagnare campo, tutti i calci piazzati, il proprio modo di giocare. Noi ci abbiamo provato a giocare nel primo tempo, abbiamo fatto buoni fraseggi, anzi abbiamo chieduto un paio di occasioni prima che passassi in vantaggio il Fano. Quindi, tutto sommato, la squadra non mi era dispiaciuta in quella prima parte di gara. Poi, sotto di due golle, era stato un po' più difficile. Il Fano si è messo dentro la metà campo, gli spazi ne erano pochi, abbiamo messo più di una volta la palla dentro, le conclusioni non sono state felici, qualche tiro è stato ribattuto. Ci abbiamo provato, abbiamo dato tutto quello che per questa partita potessimo dare. E vabbè, accettiamo questa sconfitta, adesso iniziamo a preparare la prossima. Tanto poi, come è stato domenica scorsa a termine, come è stato oggi, vi rendete conto che adesso il campionato è diverso e in campo è una battaglia su battaglia. E in campo è più difficile. Grazie.